L'Ital Service dipinge la sua ottava meraviglia. Nel sabato sera di Genzano Pesaro ha alzato al cielo la Supercoppa sconfiggendo l'Olympus Roma per 4-3. È la terza Supercoppa consecutiva e l'ottavo trofeo sollevato al cielo su altrettante finali giocate dalla società del presidente Lorenzo Pizza. Stravolta la squadra rimane comunque intatto il vizio di Tony Dandelle e compagni di rispondere sempre puntuali all'appuntamento con i match che valgono un titolo. Non fa eccezione la Supercoppa 2022 accolta a Genzano dall'applauso di 200 tifosi pesaresi giunti in terra laziale. Per la squadra di Colini è stata una vittoria costruita su grande fame tradotta in enorme intensità fin dal primo minuto. Quello che contrassegna l'1-0 di De Oliveira poi ribaltato da Bagatini e dal tiro libero dell'ex Marcelinho che fa chiudere il primo tempo sul 2-1. Pesaro però non ci sta e nel secondo tempo arriva il capolavoro. Prima il pareggio di Alflen su punizione, poi il 3-2 di Fortini al rientro nove mesi dopo il grave infortunio al ginocchio e poi la ciliegina del 4-2 di Schiocchette. L'ex Marcelinho accorcia ma di tal service regge e festeggia. Ora bisogna ricaricare le pile in fretta perché martedì è già campionato col turno casalingo posticipato a stretto giro della Supercoppa. Il 13 dicembre alle 20 arriva infatti Camedo Son al Palafiera per provare a dare continuità alla bella vittoria sul Monastir. Dal calcio a 5 alla palla a spicchi continua a vincere invece l'Ital Service Loreto Basket. Il rullo compressore guidato da coach Foglietti si è giudicato anche lo scontro al vertice con la Bartoli Mechanics Metauro Academy finita 80-70 per l'undicesima vittoria su 11 partite disputate che irrubostiscono il primo posto in solitaria dei gialloblu.